Continua la rivoluzione green del Lazio. Nuove azioni per difendere l'ambiente, sostenere lo sviluppo e migliorare la qualità della vita delle persone. Meno plastica, promuovendo la riduzione, il riciclo e il riuso. Meno consumi e più efficienza. Mettiamo a disposizione 39 milioni di euro per la sostenibilità ambientale degli edifici pubblici. Un trasporto pubblico che funziona meglio e rispetta l'ambiente. Treni nuovi, centinaia di nuovi bus cotral e nuove piste ciclabili in tutto il Lazio. Aria pulita, con la lotta all'inquinamento e la riduzione delle emissioni. Turismo ecosostenibile, spostamenti più semplici e 2.400 nuovi punti di ricarica per auto elettriche. Tutela delle acque, 100 nuovi invasi contro la siccità, 12 milioni per il Tevere e 24 milioni per tenere sotto controllo i livelli di arsenico. Acquisti verdi. Favoriamo l'acquisto di toner, carta e mobili a basso impatto ambientale. Rifiuti zero. Due esempi, 84 milioni per la raccolta differenziata e 57,6 milioni per nuovi impianti di compostaggio e isole ecologiche. Difendiamo il territorio. Investiamo 70 milioni di euro per prevenire il dissesto idrogeologico. Sviluppo sostenibile. Due esempi, 21,6 milioni di euro per rendere le imprese più verdi e 10 milioni per sostenere l'economia circolare. Per tutte le info vai su regione.lazio.it.